ciao a tutti e bentornati in questa serie qua secondo episodio allora cosa è successo nel primo per chi non l'avesse visto allora in quanto riguarda il campionato non l'abbiamo iniziato nel migliore dei modi perché dopo quattro giornate ci troviamo solamente a soli quattro punti si è voluto simulare qualche partita abbiamo iniziato bene la prima abbiamo vinto la prima molto bene fra l'altro giustamente poi dopo abbiamo perso e pareggiato e per i perso poi le altre quindi diciamo il campionato non è che iniziato nel migliore dei modi ci troviamo in 15 posizioni appunto quindi poteva andare meglio per quanto riguarda invece il mercato secondo me seppur non in maniera clamorosa diciamo non è andato affatto male perché abbiamo un sistema soprattutto del centrocampo che la qualità è salita e poi secondo me abbiamo ribadisco come già dissi presso seppur pagandolo un po troppo calcolando il budget camerino che avevamo abbiamo pressione un dignitoso sortezino sinistro calcolate che ora 68 va 67 ma solo 17 anni quindi ha sicuramente delle qualità importanti e poi come ultimo ma non ultimo diciamo degli acquisti abbiamo preso un portiere che anche se non è più forte rispetto a quello che avevamo perché avevamo venduto lì si chiamava così però comunque abbiamo migliorato anche il portiere perché l'alto era 63 lui 65 quindi tutto sommato aveva migliorato anche il discorso porta solo detto questo niente eccoci qua iniziamo settembre 2 settembre iniziamo subito con una partita la giochiamo in casa contro il coventry guardiamo un po' se riusciamo si da subito a risolevarci per quanto riguarda il discorso appunto campionato che è la cosa principale allora per le maglie direi va bene così oddio poteva andare meglio vabbè no non lo so ma metterla seconda per evitare problematiche vai ok guardiamo se riusciamo subito appunto come detto prima di sollevarci e ad iniziare bene questo video qua che è importante anche quello eh buon movimento qualcuno nel mezzo niente era meglio se probabilmente tiravo prima tira tira buona palla buttala dentro no non è girata abbastanza occasione sprecata questa tira dai matti ma come si fa non ci credo non ci credo non ci voglio credere 1 a 0 come tra l'ottantaduesimo ma dai ci siamo mangiati peggio gol vai 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 passala no ma dai ma che culo finisce così un'altra sconfitta stavolta però ha giocato perché l'altra volta la simulai l'ultima vai 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 non inizia bene non inizia bene per niente però io credo che volendo il risultato più giusto doveva e poteva essere anzi poteva e doveva essere un pareggio non è andata così seconda partita contro il crewe io le pronuncio così eh ci metto un po' di ignoranza diciamo di 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 dell'inglese e poi vabbè un po' di di così durante due risate se si vabbè comunque allora già tenendo recuperato meno velo bene sì via iniziamo e speriamo bene almeno stavolta vero che giochiamo fuori casa che in teoria non so come mai a me però sempre risultato stupidamente più difficile ottenere un buon risultato soprattutto quando simulo però ci proviamo addio 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 non è fuori show no invece sì forse si era fuori show mio amore detto subito dio sì libero sta la distanza non c'entra la porta è una casione brutta tira no dai ora ci si mettono anche i pali mamma mia come vai che siedo e passala e buttala dentro almeno becca la porta finalmente allo go eh per l'amor di dio ma uu la blocca non me ne altro intesa e andiamo finalmente giroviamo il bollo vai uo che sei veloce vai ciccio vai ciccio passala dietro passala dietro e tira mamma mia attenzione alta vero mano tira oh 2 a 0 e andiamo di non sbaglio il rivero vale bene eccoci vai che culo ti è rimasta lì tira addio bravo non l'ha presa benissimo quindi non era un gran tiro però è abbastanza veloce poteva essere imperialoso insomma andiamo un po' sull'angolo e andiamo non fa tocco i piedi ma lo fa di testa 3 a 0 e andiamo finalmente torniamo a una vittoria con una buonissima prestazione sicuramente vittoria meritata volendo anche il 3 a 0 che potrebbe essere anche più ampio il risultato se solo non ci mangiassimo determinati go guardate lì anche le statistiche bene così via sono contento e mi ci andava di vincere dopo pochi giorni un'altra partita sempre fuori casa guardiamo un po' in che stato siamo perché appunto come ho detto sono passati pochi giorni e ci sta che magari non siamo al top della fuori infatti più chi meno tutti s'accusa vediamo cosa posso fare allora come già fece anche se non nel suo ruolo ho sposto lui il terzino destro per fare cos'è lui metto reed al posto di hamed e ma direi di per tenere così so che ci sono eventuali sostituti però non hanno le stesse caratteristiche di quello in campo quelle simili più o meno di sostituirle e altri preferisco di no almeno per ora attenzione ormai non ci potremmo fare più nulla l'avranno lasciato e lo sapevo che era più dell'osso 1 a 0 col cazzo vai o credi vai riverus riverus 1 a 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 9 7 10 11 11 12 12 12 13 14 Siamo primi a 800 punti in questa occasione e possiamo permetterci di far ciò, cioè perlomeno mi posso permettere di far così. Però siamo davanti alla squadra che dovremmo affrontare, perché là Grinton è il 17esimo, l'ho visto prima nella classifica. Troviamo in casa, la voglio simulare, voglio provare. Andiamo un po', giochiamo bene, 1-0, Hamid, 2-0 Riveros, buono, 3-0 addirittura Mitchell, perfetto, perfetto, sono soddisfatto di averla simulata. Questa la gioco, giochiamo fuori casa contro Luton Town, andiamo un po'. Direi di mettere, quando bene avesse male vissi, secondo me, avrebbe capito qualcosa. Ok, per quanto riguarda la formazione iniziamo, vi espiriamo bene, eh. No, bravo Ghilar, bella parata, è vero che il tiro non era velocissimo, però era abbastanza preciso, quindi ottimo parata da Ghilar. Vai, vai, vai Riveros, di cura, eccolo! Ancora Riveros, 1-0, al più o meno diciottesimo. E andiamo, di... Bene, 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 bene. Io credi, di... Buona, di... Peccato, forse un pionio più bassa... Forse, non lo so se c'è, sarà anche... Troppo laterale, forse era gol. Mamma mia, meno male non ha inquadrato la porta. Di lì, i portieri soffrono. Lui, e lui, meno male l'ha presa male, vai. Meno male l'ha presa male un'altra volta. Vai, Mitchell! Vai, fai gol! Mitchell! Al sessantottesimo! Raddoppiamo e andiamo. Buona, guarda, ho credito nel... Mezzo. E sempre no, stra... Tira! Boom! Kai'Sedo! Difesa seria il 2-20-8, dell'1-1-down. Kai'Sedo è una propria. 3-0 al 77. Addio, lo andò, 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 andò. Non fa paura, sì. Andiamo, direi. E andiamo. Un'altra vittoria, incredibile, bella e meritate. Un bel 3-0. Bene, bene, bene. Stiamo cavarcando l'onda, diciamo, perché dovrebbe essere un'onda positiva. Soprattutto, dato il pessimo inizio di un'ampionato. Ora, vediamo che siamo sempre all'inizio, per l'amor dirglia. Però, non è inizio, 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 inizio. Penultima partita del video, e penultima partita di settembre, giochiamo in casa contro Yeovil. Ho visto che la Sifika, sono sotto a noi, io direi di simularla. Vediamo se quest'onda positiva continua anche simulando le partite. o continua in generale, perché anche se la giocavo è che andava per forza a vincere. Chi lo sa. Vediamo un po'. 1-0 a Chesedo, buono. Sempre lunga, eh. Ecco, infatti. Khan. 1-1. Mitchell, bene. 2-1 noi. Io, buono. Bailey, 2-2. 2-2. Peccato. Perché se non si poteva vincere. Quindi se ne abbiamo noni. Però, vediamo la verità, ormai voglio concludere così, perché è veramente in settembre, come credo, tanti altri mesi. È stato lungo. Ormai, se si gioca in casa anche questa, a regola sì, mi pare di aver visto, infatti sì. Voglio simulare anche questa. Speriamo bene, almeno a questa. Guardiamo un po'. Vi dirò. Ero convintissimo, o almeno molto convinto, di andarla a vincere. È la bella di prima. Simulando. La bella, sono bassi. Sciuto 2-2, ma un po', diciamo, fatto tremare, tra virgolette. Perché là vuol dire che, anche se gioia entro l'ultimo, non vuol dire che siano scherzi e scherzi. Comunque, adesso, il ventesimo cassetto un'altra volta sblocca la partita, come ha fatto anche prima. Però, speriamo che stavolta l'avversario non ce ne giuro. Infatti, ecco, 1-1. Dozone. Meno male, Gram si può essere sbagliato. Vabbè, 1-1. Alla fine non l'abbiamo perso, però non l'abbiamo neanche vinto. Vabbè, così comunque si conclude dicembre, settembre, scusate. Allora, vabbè, ora c'è il turno di coppa. Volevo vedere la classifica, però più o meno siamo, credo, poco più sopra della metà. Quindi, tutto sommato, non va benissimo, ma poteva andare peggio. Insomma, detto questo, niente. Arrivo alle conclusioni. Come sempre, vi ricordo di mettere barrafala se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un like al video, condividete, massimo a tutti, iscrivetevi al canale. E niente, detto questo, speriamo bene in ottobre. È vero che ho simulato troppe partite, però mi ci andava, diciamo, di far così. E, boh, speriamo che ottobre possa andare meglio. Anche quando simulerò, se simulerò le partite, insomma. Via, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.